Il sindaco di Bucchiani, Corenzo Di Lizio, ha emesso un'ordinanza a seguito della crescente presenza di lupi nel territorio comunale e dell'aggressione subita da un cane domestico. Il provvedimento mira a prevenire ulteriori episodi simili a garantire la sicurezza degli animali e dei cittadini. Tra le misure indicate nell'ordinanza, i residenti sono invitati a di lasciare cibo o rifiuti organici vicino alle abitazioni, poiché potrebbero attirare i lupi. È vietato dare da mangiare direttamente agli animali selvatici o lasciare cibo per cani e gatti all'aperto. Inoltre, il sindaco raccomanda di proteggere adeguatamente gli animali domestici e da cortile con recinzioni sicure, preferibilmente elettrificate, e di non lasciare i cani incustoditi o legati in aree accessibili ai lupi. Il documento suggerisce anche di prestare particolare attenzione durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità e di mantenere le zone intorno alle abitazioni libere da fitta vegetazione che potrebbe offrire rifugio ai lupi. In caso di avvistamento di lupi con comportamenti minacciosi e aggressivi, l'ordinanza incoraggia i cittadini a mettere in atto tutte le forme di dissuasione e disturbo possibili per allontanarli in modo sicuro. La crescente presenza di animali selvatici come lupi e cinghiali in aree urbanizzate rappresenta una sfida per molti comuni italiani. Il fenomeno, spesso dovuto alla riduzione degli habitat naturali e all'incremento della popolazione di alcune specie, può portare a situazioni di pericolo sia per gli animali domestici che per gli esseri umani. Per questo motivo la gestione degli animali selvatici richiede una pianificazione attenta e collaborativa tra autorità locali, esperti di fauna selvatica e cittadini. Le ordinanze, come quella emessa dal sindaco di Lizio, sono fondamentali per creare una convivenza più sicura tra uomini e fauna selvatica. Tuttavia è altrettanto importante sensibilizzare la popolazione sull'importanza di evitare comportamenti che possono avvicinare i lupi agli insediamenti umani, come lasciare cibo all'aperto o non proteggere adeguatamente gli animali da cortile. La gestione responsabile degli animali selvatici è una questione cruciale per tutelare l'ecosistema e garantire la sicurezza delle comunità locali.